Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di JumpyTech Siamo finalmente ritornati con un nuovo video in compagnia di Giorgio Frasti Guardate là vero? Che schifo di bordello che c'è là dietro Ma tu da qui vedi niente? No Quindi ragazzi oggi siamo su questo nuovo videogioco Mi sono appena svegliato perchè Giorgio mi è venuto a svegliare suonandomi al citofono Sono solamente le 11 del mattino in effetti Sono le 10 e 42 Non approssimare Giorgio perchè vai sempre avanti Ti spacco la tastiera Comunque Visto perchè poi si stoppano gli Audi Siamo ritornati Siamo su questo gioco che si chiama The Great Language Game Praticamente questo gioco ci farà ascoltare Una lingua Bestemmie in varie lingue del mondo Spagnolo italiano Ci farà ascoltare appunto varie lingue Una frase in varie lingue e noi dovremmo riconoscere la lingua della frase Esatto ragazzi probabilmente lo farò anch'io perchè Giambi mi è inculato l'idea In realtà non è vero sei tu che arrivi dopo Beh andiamo a vedere cosa Secondo me chi sta è danese Sì sì è danese Il manico Sei stato prenderci un po' di raggettone con palopatoga Che be' portoghese Che cos'è che è portoghese? Sto cancro di muscolo mi ascolto C'è stato un momento in cui hai fatto Poi cinese mandarin e cinese yue Che minchia è yue? E' un pistello solo che si chiama yue e parla in una sua lingua Si abitata solo Tra l'altro abbiamo anche tre vite Ma lol Bhaarati e gentaparti Anduk binnanga Rande venkanilci Tama madati Cora Fidati Ma nooo Telugu Ma che minchia è Telugu Cercca Con pochi minchia è Telugu Scrivi Ah ragazzi Comprate le magliette che burro Comprate le magliette che burro Che le trovate qua Lingua Telugu Telugu Non teleglue Che minchia è la città La tv dei pinguini Teleglue Etimologia E qua Telugu E' una delle 21 lingue Telugu Ma chi glu porca noia Non riesce non fatta Telegu Telegu E' una delle 21 lingue ufficialmente riconosciute India Delegato del lingua Delegato del lingua Ma chi è oh Ma ti vuoi svegliare Sta a svegliare che hai letto E' un dialetto indiano Mai sentito raga Varo giù Va bene vai No forse è giapponese No Giapponese Fra Fidati Il giapponese è più tondo come lingua Ma che c'è Anglosassone Anglosassone vuol dire sono inglese Ah inglese Poliglotta Ah Poliglotta Sei anglosassone Giusto vittoso Consiglio Sì 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 Ascolta E' d usso De Poi C'è Cresce Per dio Ma che dici? Ma che cazzo dici? Ma chi vuoi dire? E' francese? Certo! Ma sembra un cazzo di linguaggio criptato e dici francese? Minchia Mi chiamano l'University of Southern Maine, io non ho un'University of Technology, ma ho un'University of Central Florida Tu non lo viena, non lo viena, non lo viena, ma ho un'unità di trasportazione Di non lo viena, ma non lo viena Rimetti la porta della femmina Comunque secondo me verrà una merda questo video perché entra tutto qua, dovremmo farlo con gli auricolari Tu ucraina è africana, io pari africana e tu dispari ucraina Bengalese! Non ho capito un cazzo Ma i bengalese su chi di casa doom le fai a veoshtavia E i tiri sopra i giocatori e le ammazzi Rifacciamo ragazzi perché non si può perdere a 200 score A 200 score Giapponese, ma è proprio questo Dai, oh, mia, ma con chi stai giocando Cinese, ma dai No, tai Por come tai, raga Penso che si parla in Thailandia Hai ragione Lingua thailandese, cioè si parla in thai, dai Thai, dai, 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 dai Prima di ragionarci Ma chi minchia è un bengali, un giavanese È un giapponese È un giapponese con la B È l'urdu L'urdu che è? De Cagliari o de Foggia Taccatanza Ah, questo non lo dovevi dire No, non è turco Compa, secondo me è troppo... Quella che conosciamo meno qual è di queste cose che abbiamo scritto? Ah, guarda Urdu Secondo me è un urdu, compa Dai Giavanese Compa, si sentiva che c'era un giavanese C'era, c'era quell'accento giavanese C'era un giavanese C'era un giavanese Chi sei giapponese, è meno? All'urdu c'è Ma è un'altra cosa, ma è un'altra cosa E' un'altra cosa Se è un'altra cosa, se è un'altra cosa, si sentiva in un'altra cosa Che cos'è compa, questo è il giapponese Sicuro? No Perfetto Che cos'è, malati? La lingua dei maratoneti La lingua dei maratoneti Quando sono stato... Oppa, buttiamolo sul giapponese? Io, io la butto Porca, si era frizzato Minchia Si era frizzato il zitto Non lo sapeva nemmeno lui Non lo sapeva nemmeno lui Non lo sapeva, non lo sapeva nemmeno lui Non lo sapeva, non lo sapeva, non lo sapeva, non lo sapeva Non lo sapeva, non lo sapeva, non lo sapeva Non lo sapeva, non lo sapeva Non lo sapeva, non lo sapeva Non lo sapeva No, ma il giapponese dura Si, perché ridevano troppo da stupide Non parla, il giapponese ridono da cretine Ok Mi piace Non da finca, non lo prendo in culo con acqua Come fanno? No, no, io non ne so niente Ma in che categoria vai ogni volta? Ogni volta? Ogni volta Che dizionario ha usi? Ma ti immagino ci spuntano la fusione italiana E tipo, che fusione napoletano? Ehi, stavo camminando a strada Mandarino Si, te lo appoggio Proviamo Mamma mia! Oh, 200 abbiamo pareggiato Dai, battiamo sto score Ma mandarino perché hanno discendenza siciliana e quindi... Si, dai, si, oh... Le... 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 O- Ma... Miffa Dai, ci siamo apropatute ami Ma puro che ci alternativo Dai, ora Certo, dai, ora ci mettemo un sardo che parla e noi lo scambiamo per Bengalese E la frase ripetiva questa E' la frase ripetiva questa Ma è giavanese Uppai compai stai dicendo tu se sbagliamo Risponsomata tua Gets Utsback again Giavanese Aveva un po' di Utsback Quindi ragazzi per questo video Su Great Language Game Era tutto Grit Great Great Quindi ragazzi ora questo video è su TheGreat 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 TheGreatLanguageGame Mi sia piaciuto Passate sul canale di muri perchè probabilmente ne verrà uscita un altro Non so se prima, se dopo, non lo so E passate soprattutto a link in descrizione per acquistare questa Compratele perchè così vi viene il petto di Jumpitech